Le regole del condominio si applicano anche per l'immobile con due soli condomini. La disposizione dell'articolo 1136 del Codice Civile, che regola la Costituzione e la validità dell'Assemblea prevedendo il metodo collegiale, è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti. Se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, è sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria. Grazie Grazie Grazie